ci siamo quasi e ecco fatto il piano perfetto ora con questo dispositivo sarò in grado di rendermi invisibile davanti ai bambini proprio come un vero vampiro certo che ti ci sei messo d'impegno eppure è solo una casa infestata ehi no 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 sta un po zitto va bene sarà un successone i bambini lo adoreranno va bene ed è per questo che siamo qui ok va bene va bene ora se non vi è di troppo disturbo vi pregherei di andarvene così che possa finire il mio progetto ci sto lavorando da questa mattina ed il mio braccio sta iniziando a stancarsi e l'ultima cosa che voglio è che si stacchi d'accordo non rimanerci secco ok è già non vogliamo mica che tu faccia parte dei molto divertente molto molto divertente